La fascia di Etane, la Mella e il Sf5, i portati e i portati. Da un nuovo tono da Chiumiento, Chiumiento, Raga Marieta, Grazzarini. ecco le moglie vanno fuori le due atleti che hanno fatto molto bene in qualificazione le due atleti che hanno scritto il perdito incassato da te ora con i due con il 107 ora l'atleta di Bado Ligure la pittatore che va alla ricerca del primo punto al passaggio del meno 12 al passaggio del meno 12 pittatore pittatore 3, 5, 6 e il numero 19 dei mani il raffinatore Savonesi che arriva dietro chiumento chiumento chi va lì con la trama della Olimpia di Siracusa ragamera suona la campana si va alla ricerca vediamo vediamo la Sofia Paola chiumento che ora tiene vediamo se andrà va a chiedere chiune bene l'atleta di Siracusa ed è chiumento il 277 Beatrice Galeano si stacca si frantuma si spezza il gruppo vediamo se la Razzarini ritorna sotto la scotto di scia comincia a sentire le gambe stanche la piumento mentre la 2 è 77 l'atleta di Siracusa sta andando ma viene i suoi due punti Raga Mainai meno 8 Raga Mainai meno 8 va ad acquisire i due punti 239 277 e ci riprova si rimette ancora l'antina dall'esterno coperta fino a questo momento è la volta di Sara Scotto vediamo se ce la fa no ma a gambe buone Raga Maina a gambe buone per ritornare avanti vediamo 2-3 113 punticino anche per Sara Scotto momento in terza posizione ora controattacco dell'atleta dello Schedding Club Cassano a pittatore 108 108 a prendere la prima posizione ho Biden come Noni piccola maiale con un dittatore ma alle 1-4 con la della cima tutti a uscire il Paverno una gara più niente, dittatore 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 all'ultimo giro una presta di Siracusa una presta di Siracusa prenda la prima posizione nagamaya 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 poi 2,99 e 107